Oh, mi ciò che cosa sa? Oh, ciao, eh! Oggi è l'8 marzo. Oggi tutti dicono auguri alla festa della donna. Ma che cavolo è la festa della donna? Ma qual è la festa della donna? Oggi, chiamiamola con il suo nome, l'8 marzo è la giornata internazionale dei diritti delle donne. Ecco, molto meglio. Magari festa è festa. Cioè, per riconoscere i nostri diritti abbiamo bisogno di una festa, una all'anno, un giorno e tutti gli altri giorni? E che cosa siamo? Il sfilato della sabuta bianca? No, siamo uguali a tutti gli altri. Siamo uomini e donne. Il mondo è diviso così. Maschi, femmine, normale, uguali, stessi diritti. Cosa ci vuole per capirlo? Cioè, non capisco io. Io, nonno Gesuina, ma tutti gli altri, i grandi del mondo, i potenti che sono sempre uomini, faccio notare, questi sono cretini che non lo capiscono, sono deficienti. Cioè, da che la storia è iniziata, questi hanno sempre pensato così? Non sono deficienti, sono opportunisti. Allora, oggi mi aveva promesso il sindaco che avrebbe fatto un bel discorso per la giornata della donna. E quindi avrebbe fatto questo discorso alla grande, con la fasciata di colore, come sempre, invece col cavolo, si è messo a studiare. Dice che sta studiando filosofia e che non poteva venire a fare il discorso. In video, per voi, vi sembra normale? Io adesso gli ho detto, bello mio, decidi di studiare filosofia, che poi ti devi mettere la tuta gold che ti ha prestato Mahmood, per andare a fare lo spogliare i visti e portare un po' di soldini a casa, perché, giustamente, nella giornata della donna, lui deve portare un po' di soldi a casa, vero oggi, lavorerà, farà una bella serata e andranno le donne a divertirsi. C'è un po' di creduta, non è mica vero, ma stiamo scherzando. Io non ci mando solo lui, ci mando anche l'altro mio figlio a fare lo spogliare il discorso e portare i soldini a casa. Quindi, ragazze, oggi devo dare gli auguri, visto che ci facciamo gli auguri, facciamoci, perché abbiamo bisogno di auguri, perché dobbiamo ancora farne di strada, eeeh, dobbiamo ancora farne. Quindi auguri a noi, a tutte noi, a tutte le mamme, le nonne, le zie, le figlie, le cugine, le amiche, tutte, tutte, qualsiasi lavoro facciano, se non ne fanno, che siano disoccupate, che siano belle, che siano brutte, che siano grasse, che siano magre, sono fichissime, perché siamo donne e siamo troppo toglie. Perciò, ragazzi, in gamba, mi raccomando, facciamoci valere che la giornata per i diritti delle donne, almeno che abbia un senso, riflettiamoci un po' su, ok? Ciao a tutte, divertitevi stasera, ragazzi. Grazie. 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 Grazie.